...devo eseguire delle valutazioni, dove voglio arrivare? Voglio arrivare semplicemente a dimostrarvi, carte alla mano, che io sono stato trattato dal punto di vista retributivo come un semplice operaio, ma il mio lavoro non è in catena di montaggio, signori. Siamo qui davanti Montecitorio oggi perché vogliamo che i vigili del fuoco vengano equiparati a tutti i corpi di polizia dello Stato. I vigili del fuoco da troppo tempo soffrono questa sperequazione, in quanto già dalla nascita della legge 121-81, dove fu smilitarizzata la polizia di Stato, tutte le forze di polizia sono entrate in quella legge. I vigili del fuoco sono stati tenuti fuori, pur avendo noi un rapporto di impiego pubblicistico come la Polizia di Stato, come le altre forze di polizia, pur avendo una specificità che abbiamo preso nello stesso giorno delle forze armate e delle forze di polizia, pur essendo agenti di pubblica sicurezza e ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, oggi lo Stato non ci riconosce uguali a loro. Noi pretendiamo, dopo Rigopiano, dopo l'emergenza terramotica, su tutto quello che ci siamo distinti praticamente e a garanzia per lo Stato che siamo unici. Ma ripeto, noi non chiediamo più degli altri, vogliamo solamente l'equiparazione agli altri corpi dello Stato.